Musica Una pioggia insistente, acqua abbondante e diversi centimetri di acqua che hanno completamente allagato serra e campi in pochi minuti danneggiando le colture. L'allarme arriva dal presidente della CIA di Salerno, Gaetano Pascariello, che è fortemente preoccupato per i gravi danni all'agricoltura registrati in tutto l'agro nocerino sarnese, chiede alla regione campania di effettuare i sopralluoghi nelle aree agricole di Nocera Inferiore, Pagani, Angri, San Marzano sul Sarno, Castel San Giorgio, Scafati e Mercato San Severino per verificare l'entità dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali per attivare i dovuti risarcimenti. Le piagge torrenziali di domenica hanno causato allagamenti, frane e smottamenti gravemente pregiudicata all'agricoltura della zona con la perdita dei raccolti, in particolare della produzione del cipollotto nocerino DOP e delle altre colture in pieno campo. Danneggiati anche i semenziali per le produzioni future, gravi danni si registrano anche a strutture ed attrezzature, una situazione critica che si abbatte sulle imprese agricole e che mette a rischio la sopravvivenza di tanti agricoltori e la sostenibilità agricola dell'area. Sicuramente ci sono dei grossi danni, soprattutto nell'agro nocerino sarnese, sia alle strutture che alle culture in pieno campo. principalmente è stato danneggiato il cipollotto nocerino DOP che è un prodotto di eccellenza nell'agro nocerino conosciuto da tutti i chef a livello mondiale e quindi probabilmente si corre il rischio che l'80-90% di questo prodotto non sarà raccolto per i grossi problemi che ci sono stati in questi giorni perché i campi sono stati letteralmente inondati. Allagamenti avuti soprattutto nella notte tra sabato e domenica con le insistenti piogge abbondanti soprattutto? Sì, principalmente le piogge di sabato e domenica e speriamo che le piogge che dovrebbero arrivare in questi giorni non comportano altri danni perché ormai è un territorio già martoriato e quindi si arriva un altro allertamento come almeno sembrerebbe, creerà sicuramente dei danni enormi in una zona già molto ma molto martoriata. Lei faceva riferimento ad un danno che potrebbe addirittura sferare la cifra dell'80% quindi c'è già una stima che il raccolto quest'anno non sarà eccellente. Qual è la richiesta che è avanzata immagino alla Regione Campania, al Ministero? Ma noi pensiamo perché in alcune aziende non si può proprio entrare e quindi pensiamo non abbiamo fatto...